I nostri figli sono invisibili a tutti, ma i nostri figli esistono ed esistono anche i loro diritti, quindi che vengano rispettati e non più calpestati. Continua il disagio di tante mamme a causa delle difficoltà per il trasporto scolastico dei loro figli diversamente abili, problematiche che si protraggono da troppo tempo. Ci troviamo dinnanzi a un'ennesima beffa da parte di un ufficio che dovrebbe tutelare una categoria tanto importante quanto impegnativa, che è quella appunto dei diversamente abili. Un contributo per il trasporto scolastico non è erogato nei tempi tecnici necessari, creando numerosi danni alle famiglie e disagio alle famiglie, che molto spesso con questi contributi, con i contributi di cui giustamente loro dovrebbero averne pieno diritto, devono addirittura pagarsi dei percorsi terapeutici privati, perché non tutte le famiglie hanno la possibilità di essere convenzionati con i centri terapeutici. Molte famiglie devono soffrire dei percorsi privati e magari un po' di sostegno mediante questi contributi li aiuti appunto a garantire un percorso terapeutico funzionale per i propri figli. Quando dovevano essere erogati questi contributi? Allora, io voglio fare un po' la storia di questo contributo. Questo contributo è un po' un figlio mio, nel senso che quando io sono subentrata nel Consiglio Comunale, la prima cosa, gamba tesa, sono subito partita verso questo contributo. Ho fatto in modo, ho dato un indirizzo politico ben preciso, affinché un regolamento che esisteva da anni fosse cambiato. Perché prima, mentre prima, il trasporto scolastico veniva erogato dall'ente mediante i mezzi pubblici e non molte mamme potevano rispettare gli orari stabiliti dall'ente, perché alcune mamme sono vincolate, e ora ci vuole, dagli orari dei percorsi terapeutici che già svolgono durante il quotidiano, io ho fatto in modo che le mamme potessero percepire un contributo e occuparsene in prima persona al trasporto dei propri figli presso gli istituti scolastici. Io, da consigliera comunale, mi sono spogliata delle veste di consigliera comunale e nel primo step di questo contributo ho lavorato io attivamente in collaborazione con gli uffici affinché questo contributo arrivasse nei tempi tecnici necessari. Ossia, prevede un primo step nel mese di dicembre di erogazione e un secondo step che corrisponde alla chiusura dell'anno scolastico, ossia nel mese di giugno. Ho interpellato il responsabile che doveva occuparsi di questo provvedimento e mi ha risposto chiaramente che non esiste una regola che prevede che questo contributo debba essere dato ad una data precisa. Tra virgolette, questo lo dico io e me ne assumo le responsabilità di quello che dico, straflegandosene un po' di quelle che sono le esigenze di queste mamme. Perché alla fine, non dando un contributo in un tempo tecnico funzionale necessario, fa in modo che queste mamme abbiano tanti tanti disagi, che già conosciamo in effetti quali sono. La mia rabbia nasce proprio nel fatto che un ufficio, quale quello dei servizi sociali, che dovrebbe lavorare H24 per poter ottemperare a quelle che sono le esigenze dei cittadini disagiati, me lo ritrovo prontamente, tutti i giorni, a venirlo, a sollecitarli, a segnalarli. Perché le mie segnalazioni, i miei solleciti partono dalle esigenze di queste mamme che io ovviamente mi freggio di rappresentare da anni e che per il quale mi batto tutti i giorni, affinché i loro diritti non vengano calpestati. E questa cosa, io sono sincera, ne sono stanca. Sono stanca prima, io in persona sono stanca. Perché anche la dirigente a ramo, che è la dottoressa Sacco, che è una persona molto umana e sono sincera, non è una persona insensibile dinnanzi a questa tematica, più volte mi sono affrontato lei, ho parlato con lei, sono stata ricevuta da lei e più volte ho dato anche nel mio piccolo qualche suggerimento nella gestione di queste situazioni. Però adesso sono stanca perché ricevere tutti i giorni segnalazioni giuste, legittime da parte di queste famiglie e poi non avere il potere di poterle gestire attivamente, perché purtroppo il potere è tutto negli uffici, che dovrebbe fare soltanto una cosa, lavorare attentamente e assiduamente a dei provvedimenti. La mia denuncia nasce proprio dal fatto che io, che sono un'assidua frequentatrice dell'albopretorio per motivi personali, per motivi professionali, dove io appunto cerco di essere aggiornata sui provvedimenti approvati, spesse volte mi ritrovo a leggere provvedimenti approvati alla rinfusa, dove purtroppo fondi anche di un certo livello e di una certa entità vengono conferiti e poi un banale contributo che aiuterebbe a alleviare quelli che sono i disagi di questa gente, non esiste un tempo da rispettare, non esiste nulla, come se quasi i diritti di queste mamme vengono calpestati quotidianamente sotto i piedi. E questa cosa io mi sono arrabbiata. Noi siamo stufe di essere considerati cittadini di serie B. Un ragazzo disabile con delle vostre problematiche da gestire dobbiamo sempre aspettare ritardi da parte dei servizi sociali. Non è possibile che nel 2022 che ci troviamo, qui a Torre sembra un altro posto ultimato, insomma alla fine del mondo, perché per avere i nostri diritti siamo costretti a chiamare un po' a rotazione i servizi sociali, avere tutte risposte diverse. E così la palla va da un ufficio all'altro. Oggi è mancata una firma, domani manca una parolina e quindi tutti i nostri diritti vengono sempre rimandati. Ci siamo un po' scocciati, non è possibile, il problema lo viviamo in prima persona.